Eccolo la chi, è già salutato. E' partita la finale dei 10.000 setti da eliminazione. Guardate via l'ombre, è lì che si può più essere adesso. Come punta. 157 e 113 a molite. Campana, iniziamo con le eliminazioni. Con Camuto in testa al gruppo. Ora si è portata la treta dei patinatori di San Benedetti, di San Benedetti e di Botticelli. Ma andiamo ancora al gruppo. Andiamo a venire la prima eliminazione. Quella di 047. Numero 6, Civetti. Grigasa. Andiamo a venire la testa del gruppo. Con l'atleta dei nuovi cantù. Longaretti, Balcioni, Sprega. 271 e 3 di fila. E' in azione. 256. E' rialzata l'atleta Napolitano, della rotomistica Rosetta, nel testa al gruppo. Con il numero 62, l'atleta del New Roller, Forcia. Morinti. Morinti. Seguita da Galeano. Passiamo all'unizzazione. Nero 43. 211. Camuto. Numero 200. Numero 200. Ammonita. Numero 89. Ammonita. Al passaggio Campana. Ancora con Longaretti in testa al gruppo. Gruppo compatto. 243. Buon tempio. Tra l'atleta del Red 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 Lentero. In team. Ammonita. Siamo al passaggio. Un elezioni. Aiuto. 166. Non ha trovato spazio. Buon tempio. La tretta dei patinatori. In spear. Scusa. Siamo alla campana di Neuvarancato, Nafti in testa, seguita da Falsioni, c'è stata una caduta, c'è stata una caduta, si rialza l'atleta, i movimenti canti, quindi la eliminazione perché si è ritirata, è la numero 233 bianchi, a passaggio suono la squadra, con localetti in testa al gruppo, aziona con il 249, sprega, ma si attendono la eliminazione in testa al gruppo, andiamo a tenere la coda per la eliminazione, 157 Castaldi, Falsioni in testa al gruppo, andiamo giù, dentro il gruppo e fuori dal gruppo, San Paolo con Amoretti e Falcioni, poi Nafti, poi Raga, poi Longaretti, poi Galeano, queste le andrete nelle prime posizioni, numero 120, Amoretti, eliminazione in corso, 66, numero 66, numero 66, numero 159, Amoretti, ora che c'è il passaggio dal Paglione, 34, Giezzi in testa al gruppo, seguita da Longaretti, poi De Grado, nelle prime posizioni del gruppo, anche l'attreta del Rollsport, valoribile, eliminazione in meno 33, 271, 271, 2-7-1, Marchio 8, Giezzi in testa al gruppo, in questo momento vede Dominoni a dettare il ritmo, un gruppo che ogni giro si assortiglia, 213, amoretti, siamo all'immigrazione in meno 33, numero 89, Gara dura, il gruppo è compatto, ora l'attreta dei mobili, Cantu in testa, al passaggio, è lei che prende in testa la campana, Logaretti, 238, seconda ammolizione, che entra in diffida, numero 62, abolita, eliminazione in meno 29, 14, viazza l'attreta di Giulietanova, ora in testa a Falcioni, in testa al gruppo, l'atleta dell'Una Sport Academy, alla campana dei meno 28, Falcioni, forse no, nelle prime posizioni, ora si porta in testa Botticelli, Sprega, in seconda posizione, poi Falcioni, poi Possemò, poi Pozzetto, poi Logaretti, eliminazione 138, Falcioni, ancora Botticelli, che sta in testa al gruppo, con De Grado, poi Ragazza, poi Possemò, Falcioni, sale di nuovo l'attreta dei mobili, Cantu, e intanto al passaggio, saliamo esattamente a metà gara, eliminazione di meno 25, 227, Topreva, lei l'attreta che deve rilanzarsi, Salcioni, caduta, c'è una caduta, se restano vittima, forse no, numero 50, forse no, non ho visto l'altro numero, saltano due eliminazioni, campana a meno 20, eliminazione a meno 19, abbiamo ancora un'attreta a terra, attenzione, ecco, pista libera, pista libera, questa non c'è in iniezione, è stata in iniezione, ora al prossimo passaggio ci sarà il suono di una campana, numero 3, Ammonita, numero 65, Ammonita, al prossimo passaggio, campana del mino 20, e cominciando di nuovo con le eliminazioni, attenzione, otti canati, mettere un suo target, Raga, Galeano, numero 87, seconda punizione in tre di fida, 87, numero 113, seconda punizione in tre di fida, Botticelli, Degrato nelle prime posizioni, poi Raga, Galeano, Guretti all'esterno, porta su anche Logaretti, il gruppo si assortiglia sempre di più, 106, numero 106, deve fermarsi, numero 3, seconda punizione in tre di fida, le Botticelli, Botticelli seguita da Scotto, poi Falcioni, poi Degrato, poi Moretti, poi Raga, poi Galeano, poi Dominoni, incomincia ad assortigarsi sempre di più il gruppo, al passaggio, eliminazione 238, Lugaretti ora in testa al gruppo con Falcioni e Degrato che avanzano nelle posizioni, Falcioni, Botticelli, all'esterno, Galeano, Galeano, Falcioni, Botticelli, Degrato, Raga, Scotto, Moretti, Dominoni, Al passaggio, eliminazione, numero 3, Dominoni, numero 120, entra in difida, 159, seconda punizione, entra in difida, 159, seconda punizione, entra in difida, eliminata, la fatica ora è tanta, le gambe sono piene di acido lattico, 2.000 metri ancora per completare questa 10.000 eliminazione con Botticelli, Falcioni, Galeano, Scotto all'interno, numero 65, Lugaretti, Botticelli, Raga, Falcioni, Siamo al suono della campana di meno 8, 2-9-2, Nati, è l'atleta che si era staccata ormai in strada, 2-9-2, Nati, è l'atleta che si era staccata ormai in strada, in strada, sono rimaste i 10, ne dobbiamo eliminare altre 4, campana, altre 5, no 4, finiscono le 5, sono 9, ne eliminiamo 4, giusto? Andiamo a venire quindi le eliminazioni di meno 5, 62, Moretti, è l'atleta che deve rialzarsi, ora siamo con Botticelli, Falcioni, campana, 3-2-1, sempre eliminazione, 3-2-1, sempre eliminazione, dove suono della campana? 113, in testa al gruppo Caneano, De Brago, Botticelli, Faccioni, Raga, eliminazione in corso, 206, fermarsi, Caneano lancia lo sprint, anzi lancia la natura, si spezza il gruppo, Caneano, Raga, Faccioni, ultima eliminazione, ed è dal 200, De Brago, andiamo in testa, piede alla volata, con Raga, Granancia, lunga la volata, Faccioni, va a battezzare l'alberto, Inside, va Raga, va a chiudere, Raga, Faccioni, Cabiano, sono tutte contentissime, Tutto l'italiano, alla numero 120 per lo Sporting Science!